segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te bottarelli rapidamente l'argomento che più della lega rispetto a fratelli d'italia un argomento molto più della lega per cui questi soldi sono presi a prestito se forse è meglio non spenderli è un argomento che intuitivamente potrebbe sembrare valido figuratevi poi uno come me che è sempre preoccupato per il debito pubblico però attenzione quello che determina l'aumento del debito è ovviamente il deficit pubblico gli obiettivi di deficit pubblico e di debito pubblico sono fissati dal quadro macroeconomico in questo caso andiamo oggi discutiamo oggi al senato il documento di economia e finanze il def che appunto fisso obiettivi per il prossimo anno il che vuol dire che se prendi spendi meno i soldi del pnrr per raggiungere quegli obiettivi devi spendere di più in qualcos'altro ma quel qualcos'altro lo paghi a tassi di interesse di mercato mentre i soldi del pnrr sono tassi sono tassi agevolati c'è anche questo elemento certo è massimo de manzoni si è vero che sono agevolati